L'aulamagna dell'Università dell'Aquila nel Dipartimento di Scienze Umane è stata intitolata allo studioso aquilano Alessandro Clementi. La sua eredità è stata ricordata in una giornata di studi all'Università, da illustri relatori che hanno condiviso con lui studi e passioni soprattutto. Una figura molto articolata, quella del professor Clementi, in cui l'aspetto umano di persona garbata, gentile e sempre pacata, ha prevalso, pur avendo comunque quella autorevolezza che il suo ruolo gli imponeva. Una figura che ha lasciato il segno decisamente nella città dell'Aquila, hanno detto tutti i presenti, nella storia medievale ma non solo, anche per il suo impegno sociale, civile, nella scuola come nell'università, per il suo amore per la musica e per la montagna. La sua passione per il territorio era spiccata, la sua aquilalità era sempre evidente ma si è sempre unita ad una sconfinata cultura. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi lo ha definito un'icona autentica della comunità, accanto al legame con la sua terra e al dialetto che qualche volta gli scappava, Clementi ha saputo accompagnare sempre una grandissima preparazione. Riassumeva in sé questi due aspetti importanti. Aveva una grande ironia, un grande sarcasmo, un tratto che si notava subito. Il professore diceva sempre che lui voleva lasciare un segno, una tacca nei suoi studenti. A ricordarlo c'era anche il senatore Gaetano Quagliariello che ha condiviso con lui diversi anni universitari. Le sue lezioni all'aperto, il suo amore per la montagna, le camminate, le visite a Bominaco, all'abbazia di San Benedetto e in Perilis. Ho imparato ad amare la montagna grazie a lui, ha detto Quagliariello. La rettrice Paola Emberardi ha sottolineato come sia molto bello lasciare un segno tangibile del professore, dell'amico, del maestro e che la proposta della professoressa Mantini è stata subito accolta per intitolarli l'aula magna. Ci è sembrato un bel messaggio dedicargli l'aula magna, ha detto è stata una persona che ha accompagnato la vita della città, con la profondità del suo sguardo. Il professor Clementi è un intellettuale vero, con tante sfumature. Il legame con la montagna, l'amore per la musica, ci sono stati tutti gli amici che hanno condiviso con lui tanti anni. Era nato a Palazzo Pica, Clementi, uno dei palazzi storici della città, e all'Aquila, alla città, alla sua storia, ha dedicato la sua vita.